Salve, lei è Cindy, meticcia di sette anni, io sono Roberta Tosi, un'educatrice cinofila comportamentale, formata alla scuola Together Dog di Stefano Pesci. Il metodo della scuola Together Dog si basa sulla parola together, insieme. Si apprende insieme, divertendosi. Ho imparato cose che già intuivo, ho imparato cose che ignoravo totalmente. Si lavora sul benessere del rapporto tra noi e il nostro cane e si cerca di individuare qual è la criticità su cui intervenire nel rapporto tra proprietario e cane che si rivolge a me. Si impara molto sul linguaggio del cane. Si impara a capire quando è stressato, si impara a capire quando sta bene ed è gratificante riuscire a parlare col nostro cane. Ti dà una serenità diversa. Consiglio il corso Together Dog perché occorre un aiuto tecnico, così come quando abbiamo un disagio fisico, psicologico, ci rivolgiamo a professionista. Se abbiamo un disagio, una difficoltà con il nostro cane è bene sentire chi ne sa più di noi e quindi capire qual è il meccanismo che sbagliamo oppure che possiamo perfezionare. Quindi non c'è niente di male, anzi si risolve in fretta un problema magari di anni.